È rare e umano, ma in ambito medico le conseguenze possono essere gravi. Al Sanit, il Forum Internazionale della Salute, un incontro per capire come prevenire e gestire il rischio clinico attraverso strumenti di controllo come le checklist. Visto che ci sono alcuni tipi di errori, tipo le distrazioni, l'absus, errori praticamente connaturate alla mente umana che sono ineliminabili, bisogna organizzare i nostri percorsi prevedendoli. Quindi prevedendo se c'è quell'errore cosa posso fare perché si impedisca l'evento. E praticamente, come abbiamo visto nelle presentazioni, abbiamo fatto vedere degli esempi pratici di come questo possa avvenire. Io posso prevedere che durante un intervento chirurgo il chirurgo si distragga e lasci la garza dentro l'addome perché la distrazione purtroppo, quando si fa un'attività che diventa di routine, è possibile che accada. Come lo posso praticamente impedire questo? Per esempio mettendo una procedura che conti le garze prima e dopo l'intervento. Gli operatori sanitari devono essere in grado di tenere sotto controllo i rischi, guadagnarsi la fiducia dei pazienti e intraprendere insieme a loro un percorso di cura che non sia meramente clinico ma riesca a stabilire rapporti umani di fiducia reciproca. È molto importante coinvolgere il paziente nel percorso di cura. In che modo? Il coinvolgimento del paziente è fondamentale. Bisogna creare veramente empatia tra il professionista sanitario, che sia medico, infermiere o altro operatore sanitario, e il paziente. E' un rapporto di alleanza, una relazione di alleanza che si deve creare necessariamente. Cioè il paziente si deve sentire preso in carico. Preso in carico da una persona di fiducia, perché quando ci si rivolge a una struttura sanitaria ovviamente la persona è in una situazione di debolezza e quindi riveste molte speranze verso il professionista, verso la struttura che lo prenderà in carico. E questa speranza non deve essere ingannata, nel senso di dare illusioni, ma deve far instaurare un rapporto di sincerità.